Grazie e ringrazio Angelo Antoni per questa occasione e per questo invito al quale ho aderito entusiasticamente perché cominciamo un percorso insieme una decina di anni fa con Angelo Antoni, per chi non lo ricordasse o non lo sapesse tutto iniziò da un po' di soldi che andarono a diminuire nel tempo che il governo dell'epoca, lo Stato, dette a noi, al professor Rubbia che col suo nome riuscì a convogliare questi finanziamenti che furono veramente pochi alla fine della fiera e che servirono a innestare una messa a disposizione di competenze Enea molto molto importanti, rilevanti le prime prove sui sali fusi, l'impianto in casaccia in piccola scala l'incontro con Angelo Antoni che faceva tutto un altro mestiere prima e da lì tutto è cominciato a proposito di soldi vorrei dire che noi abbiamo un bilancio che chiude sui 400 milioni di euro l'anno dei quali lo Stato col suo cosiddetto contributo ordinario ce ne dà poco più di 150 e tutto il resto sono entrate attive, sono risorse nostre che ci andiamo a prendere sul mercato contratti attivi appunto, contratti di servizio, dei progetti europei vari, royalties sicuramente ecco questo è un'occasione di riflessione, questo fatto deve far riflettere sicuramente perché tutti gli interventi che ci sono stati prima di me e anche il mio batterà sul punto dell'integrazione, del territorio, del lavoro che manca, dell'innovazione del credere nel nuovo orizzonte che ci si para davanti però poi bisogna essere anche conseguenti. Se io penso ad altri enti di ricerca che hanno un contributo dello Stato che copre abbondantemente tutte le spese di personale e altro e confronto invece con l'Enea che ha spese di personale molto superiori a quel contributo dello Stato e spese in gestione di grossi impianti che si vanno a sommare potrete rendere riconto quanto abbiamo da lavorare sul libro mercato quanto dobbiamo far leva sulle competenze di ingegneretti come io dico affettosamente uno grosso dei quali è Fabrizio Fabrizzi che sta qui per riuscire a coprire tutti quei costi fissi e poi cominciare a lavorare spendendo per gli obiettivi che ci siamo dati di volta in volta. Io vorrei dire che non farò un intervento sullo sviluppo e sulle tecnologie perché mi sembrerebbe un po' di puntualizzare troppo su certi aspetti tecnici che non si confanno con lo spirito di oggi rispetto agli interventi che ho sentito prima di me però quello che ho detto sicuramente dà significato a quello che sto per dire cioè state pur certi che noi stiamo lavorando moltissimo per integrare il solare termodinamico con altre punti di energia per integrare il solare termodinamico con il territorio e troppo dobbiamo fare e qui vorrei dire qualcosa per integrare il solare termodinamico nel territorio per creare posti di lavoro e per sviluppare conoscenza. Nel prepararmi diciamo il tema di oggi che mi sono voluto dare risorse, energie e acqua energia e acqua sono le risorse principali, dall'energia naturalmente c'è anche il cibo, il tutto si conica con il territorio. Parecchi interventi prima di me, parecchie occasioni è stato ricordato questo fatto. Una sorta di orizzontalità perché l'energia, l'acqua, come la concepiamo noi oggi, come stiamo andando verso, è un'energia che è orizzontale, che si distribuisce sul territorio. Un po' come era ai tempi, è stato negli ultimi tre secoli che si è cominciato a scavare per trovare le fonti fossili, trasformarle in un vettore di energia che poi va a fare tutte le nostre case, l'energia elettrica oppure il moto, però un tempo invece si andava in piano, si andava sul territorio. Il legno era la principale fonti di energia a parte il cibo. Attenzione, c'è un dato che vorrei ricordare. Da Adamo e Eva agli inizi dell'Ottocento la popolazione umana è diventata di un miliardo di persone. Nel successivo secolo, quindi se arriviamo ai primi del Novecento, non è neanche arrivata a due miliardi, però tutto questo mondo ci ha messo un secolo rispetto ai miliardi di anni prima. Da inizio del Novecento a oggi, da due miliardi, da meno di due miliardi, sapete quanti siamo diventati? Sette miliardi, cioè siamo diventati di cinque miliardi in un secolo. Le stime dicono che al 2050 potremmo essere 10 miliardi. Tutto questo secondo me c'entra e ne lo vedremo col solare termodinamico. Il presente che è fatto di risorse, alcune delle quali nuove, l'energia abbiamo visto come vogliamo che venga trovata, utilizzata, l'acqua che scarseggia, il territorio che scarseggia perché il suo uso a fini energetici va in competizione con altri usi, quelli del cibo. Stamattina, uno mattina, ho assistito a una conversazione molto interessante di qualcuno di cui non ricordo il nome. Ah sì, Rizzo del Corriere della Sera. Scusa, c'è un ciulo se cito la concorrenza. La Parcondicio, che parlava, non so dire i numeri, ma insomma ve li immaginate, di un uso sproporzionato del territorio nel nostro paese, molto superiore, uso come dire, non buono, sparso, non organizzato del territorio, un uso e abuso del territorio nel nostro paese, molto maggiore di quello che c'è in altri paesi, anche a densità di popolazione più alta di quella nostra. Quindi risorse e territori. E allora il presente evidentemente si coniuga, nasce il concetto di sviluppo sostenibile. Però lo sviluppo sostenibile, che è fatto di un sostantivo e di un aggettivo, tutti siamo molto bravi a parlare dell'aggettivo, cioè della sostenibile, ma per ingranare e per coniugare il tema sviluppo dobbiamo ricordarci di alcuni principi fondamentali. Oggi c'è la globalizzazione, che vuol dire che di certe cose si fa parlare non nel comune, ma si fa parlare all'estero. Però poi l'integrazione delle varie risorse col territorio è un fatto che si svolge nei comuni, si svolge sui territori, si svolge in Sicilia, nella fattispecie. I paradossi, che sono un po' le condizioni al contorno di quello che andremo a dire di oggi, sono che i paesi poveri finanziano i paesi ricchi comprando nel debito, che 36 milioni di persone all'anno muoiono per scarsità di cibo, che altrettante persone all'anno muoiono per patologie legate all'eccesso di cibo. Che 3 miliardi di animali di allevamento consumano annualmente un terzo dell'intera produzione alimentare mondiale, perché a noi piace mangiare l'acqua. Quindi cominciamo a capire che l'integrazione dell'uso delle risorse per rendere sostenibile questo sviluppo non è cosa banale. Pensate che tutto il grano e la soia che negli Stati Uniti sono destinati all'allevamento animale potrebbero sfamare 1 miliardo e 400 milioni di persone. Visto che li ho rintracciati, fatemi di dire, ma il senso ormai si è capito, l'Unione Europea finanzia incentiva, ogni mucca dell'Unione Europea riceve 2 dollari al giorno di sussidio. Ci sono 2 miliardi e mezzo di persone al mondo che vivono con meno di 2 dollari al giorno. Ricordiamo quel dato sui miliardi che siamo diventati, ricordiamoci la slide che è stata fatta vedere a rovescio che fa capire che tanto di quel nord tende a venire in tanto di questo sud rovesciati. Pensate all'immigrazione. Un ultimo dato perché è simpatico, sapete che ci sono 700 milioni di africani che hanno meno di 30 anni e che ci sono quasi 90 milioni di europei che hanno più di 64, tra i quali io. Quei 700 milioni determinano un flusso, un ribollire di ormoni molto, molto, come dire, attivo in quel posto lì. Adesso il dato più filosofico secondo me, e cioè tutti gli indici che si riferiscono alla digitalizzazione mostrano un rivario culturale spaventoso fra nord e sud, fra giovani e anziani, tra grandi centri urbani e centri periferici sempre più grandi. Einstein diceva che il progresso vive con lo scambio di conoscenza. L'analfabetismo digitale esclude tante persone. Non è banale, non è filosofia, perché se vogliamo coniugare lo sviluppo col territorio, che è lo spirito della questione di oggi, ci si accorge che bisogna trovare il modo, un modo come dire, un po' più articolato, un po' studiato meglio di quanto è stato per il fotovoltaico, che porti conoscenza e quindi lavoro sul territorio. Se no funziona niente. Se la Sicilia diventa, come dire, il supporto per tanto solare e termodinamico, come tanti tetti sono il supporto, o anche tanto territorio e il supporto banale per appoggiarci del fotovoltaico, sicuramente non funziona. Sicuramente non funziona. Quindi no knowledge, no culture, no culture, no vision, stiamo parlando di vision oggi, no vision, no future. Allora, sviluppo sostenibile, abbiamo detto che se ne va a parlare di energia di acqua nelle sedi internazionali, noi siamo qui, le questioni di interfaccia devono essere trattate sul territorio. Territorio il cui uso diventa sempre più difficile perché è un uso competitivo fra modalità diverse di uso del territorio. Bisogna trovare il modo di spostare, di concentrare, trovare il modo di tradurre quanto detto in posti di lavoro perché un milione e mezzo, un milione e mezzo di giovani sotto i trent'anni hanno, non trovano lavoro, non hanno trovato lavoro, sono stati espulsi dal lavoro negli ultimi cinque anni. Detto questo, detto questo, io voglio far vedere questa, qua ve ne faccio vedere poca, questa fa vedere la percentuale dei fondi pubblici destinati per ricerca e sviluppo alle fonti rinnovabili sul totale dei fondi stanziati per ricerca e sviluppo energetica nel 2010 e voi vedete che in Svezia, in Spagna, in Austria, come dire, sono andati parecchio su, l'Italia è lì, ma quello che conta è il pallino giallo e la versione percentuale dal 2005 a oggi. Noi siamo sotto lo zero, cioè l'impegno, ricerca e sviluppo sulle fonti rinnovabili negli ultimi cinque anni è andato diminuendo. questo vuol dire che il governo all'entra all'inizio con le tecnologie, tutti ci mettono un po' di soldi dopo un po', Angelo Antoni questo è veramente da applaudire, venture capital, capitale normale, poi piano piano si arriva a vendere, però tutto parte da lì. Questa io vorrei farvela vedere perché noi vogliamo bene alle fonti rinnovabili tutte, però se voi guardate a sinistra, quella lunga linea blé vuol dire che l'Italia è un campione del mondo nell'impegno sulle fonti rinnovabili, lato domanda. Sulla destra abbiamo l'Italia che è praticamente zero, sull'impegno sulle fonti rinnovabili, lato offerta e si è capito che è arrivato, anche Gonzo lo diceva con enfasi, è arrivato il momento di ingranare in maniera sostenibile lo sviluppo e quindi sviluppare un'offerta. Questa è qualitativa ma non troppo, fa vedere come l'impegno sul fotovoltaico negli ultimi dieci anni in Europa ha determinato una capacità potente installata che è la linea blu scura che cresce verso l'alto. Il saldo commerciale dell'Europa 15 è la linea blu chiara verso il basso, cioè in Europa per fare tutto quel fotovoltaico si è dovuto far uscire soldi, però meno di quanto non si sia installato, vedete? La linea chiara si abbassa di meno di quanto non cresca quella scura, quella rossa e quella gialla è il caso nostro. Secondo me è un'occasione persa, guardate invece il bello, il bello sta qua, il bello sta qua perché dalla ricerca di laboratorio, ripeto un po' di quattrinelli dati dallo Stato, la grande forza trainante di Rubbia, ma i brevetti sono stati messi da gentarella come me, un certo Fabrizi, un certo Antonaglia che sta a portici che spalmava i film sottili fotovoltaico sul suo strato ed è diventato evidentemente bravo, ci ha pensato di applicare gli stessi sistemi per spalmare il tubo nero, il tubo del tubo e lì sta la chiave di tutto per la quale Gian Antonio sta diventando famoso nel mondo. Poi c'è stata la fase di qualificazione della componentistica, in casaccia sono fatte le cose, poi il sistema ha stranamente funzionato perché mentre cresceva una capacità industriale d'offerta per motivi assolutamente legittimi, secondo me all'inizio di pubblicità, perché vi ricordate lo spot dell'Enel, qui si vedeva quella persona che finiva a Priolo, va bene? l'Enel ci ha messo di su, ha costruito lei il 4 megawatt a Priolo e così il sistema, una filiera corta, nel senso che italiana in dieci anni si è qualificata con una capacità di offerta, la quale quindi riesce a resistere a una mancanza di domanda nazionale e va in REST4MED, va in tutto il mondo con tutto l'appoggio che può avere da parte nostra Angela Antoni. Ecco, io do per scontato che saremo in grado di continuare a sviluppare tecnologicamente il solare termodinamico. Noi Enea siamo molto impegnati anche su altre cose, crediamo molto nella biomassa, crediamo molto nel lavorare sulla fusione nucleare, quella che forse darà un risultato nel 2060 semmai riuscirà a darlo, però crediamo soprattutto nel meccanismo col quale fare questi lavori che è totalmente ed esclusivamente in connessione con l'industria. Noi non abbiamo obiettivi nostri, non abbiamo obiettivi condivisi, la priorità nel definire gli obiettivi è dell'industria, il contesto lo diamo noi, magari nel caso della fusione è il contesto di un grande programma internazionale che consenta a imprese italiane, ha consentito a imprese italiane qualificate lavorando con noi di prendere oltre la metà, di vincere oltre la metà dei finanziamenti messi a gara per la costruzione del reattore a fusione inter che sta in Francia eccetera eccetera. Ecco la finisco qui con un ultimo messaggio detto tutto questo, il futuro non è facile perché non si tratta banalmente di fare questo scusate se dico banalmente col senno di voi, ma si tratta di radicare la capacità produttiva sul territorio in un sistema competitivo di uso del territorio mettendo a bias diciamo a comun denominatore la necessità assoluta di trovare posti di lavoro perché nessuno ne ha parlato fino ad ora ma il tutto avviene nello scenario della crisi, quindi è tutto molto più difficile e quindi tutto va coniugato come sta dicendo il governo ha emesso soltanto da qualche settimana con l'aumento di produttività e di competitività. Il paradigma è col quale chiudo è ricerca fa nascere l'innovazione, l'innovazione produce la competitività, la competitività è l'unico modo per uscire dalla crisi. Signori grazie. Grazie.